Buonasera a tutti, benvenuti sul mio canale e per chi non mi conoscesse, per chi invece mi conosce già, bentornati. Allora, questa sera facciamo una canalizzazione con delle energie. Vediamo un attimo di vedere che cosa sta succedendo nella vostra vita. Allora, per alcuni potrebbe esserci una situazione problematica o comunque molto di ansia nella vostra vita, questo è quello che percepisco. Quindi vediamo quali sono le vostre paure e quali invece sono le vostre intuizioni, perché credo che il disequilibrio per molti di voi potrebbe essere causato proprio da questo, potrebbe essere causato dal fatto che non riusciate a discernere quelle che sono le vostre paure dalle vostre intuizioni. E quindi molto spesso potrebbe accadere che praticamente non riusciate a distinguere le due cose e questo poi comporta purtroppo problematiche come per esempio il credere che le paure siano reali, siano intuizioni, siano manifestazioni. Quindi far manifestare le paure piuttosto che appunto far manifestare quello che è meglio per noi. Quindi oggi voglio andare a vedere proprio questo, voglio andare a capire quali delle cose che pensate sono intuizioni e quali delle cose che invece pensate sono paure. Quindi andremo a vedere questa cosa. Non sarà un video con più varianti, ma sarà un video con una sola variante, una sola canalizzazione. Quindi se state cercando un video con più varianti potete andare a vedere sul mio canale e ne potete trovare diversi. Allora vediamo subito di avere delle carte degli oracoli per voi innanzitutto. Abbiamo la carta di ispirazione, musa ispiratrice. Abbiamo la carta di opportunità. Caterfiller. E fa morire la ridere questa carica, è bellissima. E poi abbiamo la carta di connettività. Ok, allora alcuni di voi potrebbero avere avuto, tra l'altro abbiamo riconciliazione sul fondo mazzo. Allora alcuni di voi potrebbero avere questa ispirazione al momento, di avere questa ispirazione di fare qualcosa della propria vita, di fare un'azione, di fare un qualcosa di ispirato. Allora secondo me alcuni di voi hanno proprio anche delle idee creative da sviluppare, volete mettere in pratica dei progetti, volete sviluppare qualcosa, perché forse lo avete lasciato sopito per troppo tempo. Infatti io qua ho il bruco fondamentalmente, il caterpillar, quindi il bruco che si vuole trasformare in farfalla. È come se voi sentiste in questo momento che dovete trasformarvi, dovete uscire dal bozzolo, dovete finalmente esprimere la vostra vera essenza nel mondo, dovete veramente dare ciò che siete al mondo. Non riuscite più a stare in questo bozzolo, vi sta stretto, vi fa stare addirittura male, vi sentite addirittura soffocare. E questa forse, non so perché non sono un bruco, però forse questa è la sensazione che provano i bruchi prima di uscire dalla crisalide e di trasformarsi in farfalle. Bene, questo è esattamente il momento energetico che voi state attraversando adesso. Questa è la realtà delle cose, questa è la realtà delle vostre energie, e qua mi dice anche che c'è un'opportunità che vi sta aspettando. Allora, però, secondo me alcuni di voi potrebbero avere paura, ha paura di affrontare questa opportunità o di affrontare, di aprirsi, no? Ha paura di uscire dalla crisalide e dal bozzolo, perché sappiamo che la libertà fa anche paura allo stesso tempo. E quindi io vedo che voi state cercando di guardare intorno, state cercando di capire qual è la strada giusta, qual è la strada sbagliata invece, qual è... Insomma, voi state cercando di prepararvi dal punto di vista razionale a quelle che potrebbero essere le possibilità. Perché ovviamente non stiamo parlando di una crisalide che si apre per far uscire una frafalla ed era un bruco. Stiamo parlando di persone, persone umane, quali siete voi, quali siamo noi, e ovvero persone che devono in realtà sviluppare se stesse, far uscire se stesse fuori dal bozzolo. Per cui, quello che mi sento di dirvi è che qua voi state utilizzando troppo la razionalità, state utilizzando troppo il calcolo, il calcolo matematico per così dire, ma soprattutto il calcolo delle probabilità, cosa può andare bene, cosa può andare male, ma se faccio quello allora mi andrà bene, allora se faccio quello e mi va bene, poi posso lasciare quell'altra cosa, potremmo parlare di qualsiasi cosa, relazioni, lavoro, ma io credo che proprio molti di voi qua si tratti proprio di qualcosa che vi fa sentire vivi, vi fa sentire quella spinta vitale appunto, che è quella della vostra anima alla fine. Quindi secondo me quello che vedo qua è che è giusto guardarsi intorno, è giusto stare attenti, è giusto stare attenti alle opportunità che arrivano, è giusto stare attenti a quello che si sta manifestando, quello che potreste incontrare, magari quali possono essere inconvenienti, preoccupazioni, è giusto, è giusto guardare queste cose ed è giusto anche tutelarsi da eventuali cose che vi preoccupano, ed è giusto che abbiate delle preoccupazioni, però troppo può andare a creare dei problemi, nel senso forse qua c'è bisogno di essere un pochino più avventati per così dire, non parlo di un essere avventati in maniera distruttiva, in maniera brutta, in maniera appunto ripeto autodistruttiva, io parlo qua di essere avventati per fare un salto, un salto che può essere per alcuni un salto della fede per così dire, dovete lasciare indietro qualcosa che vi dà comfort, quindi una zona di comfort, per andare verso ciò che veramente vi rende vivi e felici, e gioiosi, più aspettate e più sentirete questa sensazione di costrizione e soffocamento che molti di voi potrebbero sentire, io non escludo che in questa stesa alcuni di voi possano anche sentire addirittura degli attacchi di panico, o stiano iniziando ad avere ansia, stiano iniziando ad accusare problematiche tra virgolette di questo tipo, perché qua abbiamo proprio questo tipo di energia. Il gatto come animale è un animale molto saggio, gli egizi lo veneravano, è un animale che è in grado di collegarsi e connettersi e vedere il mondo sottile, quindi in realtà questo gatto, vedete com'è spensierato per così dire, con il suo pennello in mano, questo violino, quindi alcuni di voi potrebbero essere dei creativi, dei musicisti o cose di questo genere e potrebbero magari voler improntare, non lo so, la propria carriera sull'arte o sulla musica, però magari questa cosa vi spaventa, magari avete un lavoro fisso che però vi fa stare male, vi fa sentire questa sorta di soffocamento. Ecco, se così fosse sappiate che questo gatto, anzi abbiamo due gatti ora che ci faccio caso, questo gatto praticamente mi sta dicendo che dovete rischiare, dovete buttarvi, dovete saltare. Guardate, è arrivato anche il mio di gatto, bene, comunque tutti questi gatti ci stanno dicendo che fondamentalmente dovete aspettare il momento giusto, sì, ma farlo, farlo, cioè cercare di trovare la giusta quadra, magari il compromesso, eccetera, ma farlo, perché ne va della vostra felicità, è importante fare questa cosa, è importante cambiare, è importante trovare un nuovo compromesso, assolutamente sì. Ecco, stava mettendo la zamba proprio lì, per cui vi dico che secondo me qua c'è proprio bisogno di ascoltare profondamente l'intuito, profondamente la parte connessa con poi il mondo sottile. Ho portato questo topic dei gatti perché i gatti, quando si guarda un gatto, sembra quasi che guardi attraverso, che possa vedere quello che noi non vediamo, quindi loro vedono le possibilità, cioè loro, nel senso che questa carta mi sta dicendo che il gatto vede le possibilità che voi non potete vedere. Le vede perché ci sono, ci sono queste possibilità in realtà, ma voi non le vedete, e quello che non vedete e che è ignoto vi sta spaventando tantissimo. Il problema è quando voi decidete di dare adito a credito alle vostre paure, anziché a quello che è quello che vi guida, insomma, fondamentalmente dentro. Dare adito un po' a quella che è la vostra capacità, no? Di connettervi, connettervi con il sottile. Il sottile vi sta parlando, sta facendo di tutto per farvi capire quali sono i passi da compiere, e che più state fermi e più soffrite. Come dice Benigni, ogni passo che noi compiamo ci rendiamo conto di quanto fosse pericoloso rimanere fermi. Allora, qua c'è bisogno di connettersi con se stessi di più, perché appunto, secondo me, alcuni di voi hanno proprio perso un po' la connessione con la propria interiorità, da quello che vedo, potrebbero aver perso, sì, la connessione con la propria interiorità. Più che altro con la propria parte più alta. Quindi c'è solo e semplicemente bisogno di ritrovare questo. Non escludo che, per esempio, la relazione nella quale siate, o il posto di lavoro nel quale siate, o la condizione nella quale siate, che è proprio quella che vi fa sentire imprigionati, possa avere in qualche modo contribuito a farvi perdere questa sorta di connessione con la vostra parte più alta, come energie, energeticamente parlando, diciamo. perché fondamentalmente questa parte è... scusatemi, questa parte, questa... questa situazione magari energetica non vi appartiene più e non vi permette di esprimervi, potrebbe non permettervi di esprimervi nemmeno dal punto di vista creativo. Per cui abbiamo bisogno, in questo senso, di staccarsi. Io vedo che una volta che vi staccherete potrebbe sbloccarsi qualcosa. Allora, c'è anche un'opportunità per alcuni di voi di esprimersi tramite il web, tramite... non escludo che alcuni di voi abbiano un canale YouTube, oppure magari abbiano una pagina nella quale scrivono, nella quale si esprimono, per l'appunto, magari abbiano uno shop online. Quindi alcuni di voi potrebbero puntare proprio su questa cosa e secondo me questa potrebbe essere una soluzione, potrebbe essere una strada da intraprendere. Abbiamo questo albero che ci parla dell'ancestrale e vi dico che appunto l'ancestrale qua mi parla della parte divina più alta, per cui qua abbiamo a che fare con un qualcosa che fondamentalmente è sempre connesso con voi. Questo è un po' l'albero della vita, è l'albero della vita. Per cui è l'albero della vita, vi sta dicendo... Mi viene in mente Nonna Salice di Pocahontas, non so se alcuni di voi hanno visto il cartone. Quella Nonna Salice era così saggia e sapeva elargire consigli, quindi voi avete una parte dentro di voi che è come se mormorasse questo, è come se mormorasse i giusti consigli, le giuste direzioni da seguire. Ecco, riconciliazione con questa parte, perché secondo me potrebbe essere stato così, è andata così, potrebbe essere stato che abbiate ricevuto molti consigli, molti sussurri mi arriva da questa parte interna, che poi non è altro che il divino, la coscienza collettiva, quindi molti suggerimenti, ma voi non averli ascoltati, non averli sentiti, non averli ignorati, non aver colto questi suggerimenti, e quindi potrebbe essere che poi si sia disconnessa questa cosa, questa connessione. Io vedo che qua, se voi decidete di saltare, c'è una riconnessione, una riconciliazione anche con questi spiriti. Fondamentalmente potreste aver fatto un po' arrabbiare i vostri spiriti guida, mi arriva questa cosa per alcuni, perché magari vi hanno consigliato un sentiero, molte volte, per molto tempo, eccetera, ma voi non l'avete mai ascoltato, non avete mai dato adito, il tempo passa, e quindi i vostri spiriti guida potrebbero aver dovuto virare il timone verso qualcosa di più strong, per farvi capire che forse la strada non era quella corretta, ecco, perché poi sappiamo che è così che funziona, la vita è l'energia della vita in generale, e quando una strada non è quella giusta per noi, fondamentalmente quello che succede è che si ricevono dei consigli, delle intuizioni, delle premonizioni, e se non si va verso quella direzione, fondamentalmente cosa succede? si può anche sviluppare dei sintomi fisici a volte, o si può sviluppare veramente delle sensazioni molto fastidiose, interne, sia psicologiche, sia fisiche, quindi qui è richiesto questo, è richiesta una virata di timone, proprio una virata energica di timone, molto molto forte, anche se adesso magari essendo andati avanti sulla strada vecchia per troppo tempo, potrebbe essere o risultare complicato, ma voi non dovete farvi problemi a virare il timone, dovete farlo perché questo è quello che vi stanno dicendo i vostri spiriti guida, quindi non dovete farvi problemi a rovinare situazioni, a far crollare quello che sia, che sia un matrimonio, che sia una relazione, che sia anche una famiglia purtroppo, che sia magari anche una situazione lavorativa, ecco, questo è quello che mi viene da dire, perché qua abbiamo questo consiglio, non dico che sia semplice, non dico che non porti dolore, non porti soprattutto discomfort, non porti paura, tanta paura che voi potreste sentire, o senso di colpa, perché magari se avete una relazione in piedi, che però non funziona più, magari voi lo sentite dentro, però non riuscite a chiudere, perché magari il senso di colpa è molto grande, magari ci sono state delle progettualità insieme, o avete, non lo so, avete investito magari anche denaro con quella persona, avete costruito una famiglia, o qualsiasi cosa sia, questo è quello che vi dicono le carte, è come se dicessero, non importa cosa ci sia in ballo, è più importante la tua vita, la tua serenità, la tua gioia, la tua realizzazione, o la tua, la tua ispirazione, la tua libertà, le possibilità che l'universo ti vuole dare, la tua strada, il tuo sentiero, perché è come aver fatto una sorta di deviazione dal vostro sentiero, che vi ha portato poi alla fine a scoprire che quella strada che avete intrapreso, fosse una sorta di vicolo cieco, e quindi che cosa si fa in quel caso? L'unica cosa che si può fare è tornare indietro, e accettare che quello fosse un vicolo cieco fondamentalmente, e andare verso la direzione che è stata scritta per noi, quindi questo è quello che vi dicono le carte, mi rendo conto che è una cosa molto molto anche dura da accettare, perché se appunto avete intrapreso tante cose insieme, avete investito con questa cosa, un progetto eccetera, qua potrebbe essere che dobbiate fare i conti con tanta delusione, tanta delusione, però ecco questo è quello che mi dicono le carte per voi, prima lo fate, prima starete meglio, io ripeto, qua ho la carta di opportunità, la carta di ispirazione, la carta di connettività, quindi questo vi porterà innanzitutto ad avere un'ispirazione creativa, un'ispirazione che è data dal profondo della vostra anima, voi avrete la creatività in mano, e utilizzerete la creatività per creare delle nuove strade, e delle nuove opportunità, arriveranno anche proprio dall'esterno nuove opportunità, perché ribilanciandovi sulla vostra energia, ribilanciandovi sull'equilibrio naturale della vostra inclinazione, ad esempio, se si tratta di questo, arrivano le opportunità, perché si attraggono, si manifestano molto più velocemente, essendo allenati sul proprio sentiero, connettività, qua è appunto anche la connessione, non solo, come dicevo prima, col web, perché qua mi è arrivata questa parola web, però anche proprio con le persone in generale, perché qui abbiamo un ritrovato, tra l'altro equilibrio mentale, quindi abbiamo fondamentalmente anche una voglia di aprirsi agli altri, secondo me questo tipo di cosa può portarvi anche a conoscere nuove persone, nuove opportunità dal punto di vista proprio relazionale, potreste conoscere nuovi amici, potreste conoscere nuove persone che hanno la vostra stessa passione in qualcosa, e questo è proprio ciò che in realtà vi serve, secondo me. Riconciliazione anche, non solo con la vostra parte più alta, perché quella è quella con cui vi riconcilierete, e la cosa importante che mi arriva con questo messaggio è, non importa qualsiasi altra cosa, la cosa più importante è riconnettervi, riconciliarvi con voi stessi, forse. Quella è la cosa più importante, in assoluto, e se per riconciliarvi con voi stessi dovete litigare con qualcuno, dovete chiudere qualcosa, dovete buttare all'aria qualche progetto, qualche cosa che avete creato o fatto, non importa, o comunque sì, importa, perché mi rendo conto che non sia semplice, ma all'anima non importa, all'anima l'unica cosa che importa è evolvere, l'unica cosa che importa all'anima è rimanere fedele a se stessa, rimanere fedele a quello che sente dentro, è quello che è il suo percorso, quindi questa è la cosa più importante in assoluto di tutte, proprio la vostra priorità assoluta da quello che vedo qua in realtà, ed è per questo che voi state così male, sentite questa sensazione di soffocamento, sentite questa sensazione così di oppressione, perché la vostra anima sta fremendo per riconciliarsi con voi, per essere fedele a se stessa, sta fremendo affinché voi scegliate di riconciliarvi con lei, questo è quello che succede. Mi rendo conto di adesso di quanto sia complicato effettivamente questo passo, questo passaggio, e io vi posso dire che se fate il salto della fede, dimostrate a voi stessi, alla vostra anima e al divino, che siete degni di ricevere tutti i doni e i frutti che fondamentalmente vi spettano, quindi è solo questione di fare questo, e di non tergiversare o di non posticipare, soprattutto mi arriva questa cosa, alcuni di voi potrebbero avere questa cosa, questa sorta di, potrebbero posticipare questo salto, perché stanno aspettando che arrivi un'opportunità, no? Per sostituire quella cosa lì, che dovete lasciare, no, perché la lezione è proprio questa, vi buttereste nel vuoto quanto è grande la vostra fede nel accettare quello che arriverà dopo, quanto è grande la vostra fede, tanto grande da rimanere nel vuoto, e anche se non c'è nulla, non c'è nulla di certo, non c'è un'altra zona di comfort che vi aspetta fondamentalmente, siete in grado di affidarvi e di saltare, questo è quello che vi vogliono dire le carte, questo è il messaggio fondamentale, secondo me, quindi, vediamo adesso di avere però dei tarocchi, per voi, allora, sento tutta la paura che avete, ed è tantissima, ma dovete scegliere fondamentalmente se seguire la paura, o se seguire il vostro onore interiore della vostra anima, ok, allora, qua non dovete sentirvi in colpa, nella maniera più assoluta, perché alcuni di voi potrebbero addirittura anche avere a che fare con delle, con delle persone che stanno manipolando il vostro cuore, il vostro buon cuore, e che stanno utilizzando questa cosa come scudo, come arma, per farvi rimanere dove siete, io vedo questo, vedo che potrebbe, non per tutti ovviamente, alcuni di voi potrebbero anche semplicemente avere dei sensi di colpa, ma non avere a che fare con persone manipolative, però avere un senso di colpa, perché stanno lasciando andare qualcosa nel quale avevano investito, e magari si sentono di avere illuso l'altra persona, o altre persone, quindi non è detto che tutti abbiano a che fare con una persona manipolativa, ci tengo a dirlo, però per alcuni sì, è così, quindi forse qualcosa che vi tende, anche voi stessi potreste manipolarvi in realtà, cioè magari vi sentite in colpa, non volete affrontare il senso di colpa, non volete affrontare la paura soprattutto, non riuscite ad affrontare la paura, e quindi vi manipolate da soli, dandovi delle giustificazioni per non fare questa cosa, per non fare questo passo, per non fare questo salto, se invece non si tratta di voi, e vi dico, potreste manipolarvi in maniera anche molto, molto, potreste essere molto bravi a trovare scuse, ecco, quindi, attenzione alla vostra stessa mente, perché per alcuni di voi potrebbe essere una nemica, in questa scelta, per altri qua si tratta di un'altra persona, e appunto una persona che potrebbe far leva, proprio sui vostri sensi di colpa, per non farvi prendere una decisione, allora quello che, quello che qua mi dice è, lottate, lottate per la vostra libertà, qualsiasi cosa sia quella contro cui dobbiate lottare, lottate per la vostra libertà, condizioni esterne, persone, persone che vi manipolano, paure, la vostra stessa mente che cerca di manipolarvi, farvi trovare delle scuse, o qualsiasi cosa sia, lottate, perché qua c'è il sole, qua voi state iniziando a vedere chiaramente ciò che sarà dopo, sentendo quello che anche stiamo dicendo in questa lettura, quello che sto dicendo, secondo me alcuni di voi potrebbero aver avuto anche delle illuminazioni, per così dire, o comunque delle chiarificazioni, dei segni, e in realtà qui abbiamo questa donna che si sta liberando, vedete, sta lanciando la sua cintilla vitale verso il sole, quindi questa donna sta veramente, sta compiendo la trasformazione, sta uscendo dal crisalide, voi dovete uscire dal crisalide, mi rendo conto di quanto possa far pure uscire dal crisalide, se non oso immaginare appunto dopo essere gestiti tutta la vita, ma va fatto, va fatto, non c'è più tempo per aspettare, perché più aspettate e più questa cosa, questa energia si sta trasformando in tossicità, problematiche, ripeto, anche psicosomatiche, alcuni di voi potrebbero aver iniziato ad avere ansia, attacchi di panico, alcuni altri di voi potrebbero magari avere accusato particolare stanchezza, riguardo a qualcosa che state continuando a portare avanti, che proprio è la situazione karmica, perché mi viene da dire, potrebbe essere una situazione karmica, che non vi permette di sbocciare, Allora abbiamo anche in realtà la giustizia qua, quindi la giustizia mi parla di qualcosa che si varia a ribilanciare, c'è una donna qua sotto che sembra quella più intuitiva, che vi dice guardate che in realtà ci va giustizia per affrontare questa situazione, innanzitutto giustizia verso voi stessi, però anche giustizia verso gli altri, quindi avere un minimo di bilanciamento tra quello che è la condizione, la condizione esterna e la condizione interna, ovviamente non sto parlando di radere al suolo tutto, e chi se ne frega delle conseguenze, chi se ne frega degli altri, se stanno male, amen, l'importante è che sto bene io, no, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un giusto bilanciamento, perché questa è proprio la lezione da superare, qua bisogna riuscire, in qualche modo, a capire, entrare in contatto con le proprie esigenze, andare verso le proprie esigenze, fare, verificare, quelle che sono i vostri sogni, le vostre manifestazioni, ma allo stesso tempo, cercare anche di andare incontro ai bisogni degli altri, emotivi più che altro, perché qua non si tratta di qualcuno che vi chiede di fare qualcosa, perché qua magari potreste avere a che fare con le persone che vi chiedono di rimanere dove siete, di rimanere e continuare a fare ciò che state facendo, magari in una relazione, dicendo ecco no, non si tratta di questo, non si tratta di quel tipo di aiuto, ma si tratta di ascoltare anche gli altri, e magari appunto non essere impulsivi in quello che si vuole fare, quindi cercare di trovare un giusto bilanciamento, magari spiegarsi con gli altri, magari capire veramente prima di tutto quello che si ha dentro, e poi anche con gli altri andare a spiegare quelle che sono le proprie problematiche, o quelle che sono le proprie scelte, o che cosa sta succedendo dentro di sé, e perché si prende una determinata decisione, e quindi questo è quello che vi viene consigliato di fare, non lasciate nulla al caso, non lasciate nulla a così, è come se fosse farlo tanto per fare, o comunque non vi consigliano neanche di essere troppo impulsivi, perché abbiamo il cavaliere di bastone al contrario, quindi attenzione anche a questo, all'impulsività, e l'importante qua è veramente trovare un compromesso, una giusta direzione, e andare verso quella, spiegare agli altri che avete intorno che cosa volete, o comunque anche se non volete spiegare che cosa veramente volete, cercate di essere empatici nei confronti degli altri, ovvero, se si tratta di una relazione, parlare con la persona, dire guarda, forse non è più tempo per noi, forse non è più ciò che mi fa felice, forse neanche a te fa più felice, pensaci, oppure se si tratta di un lavoro, ovviamente cercare di gestire la situazione, in maniera che nessuno venga a perderci, perché anche in situazioni lavorative, magari se voi venite meno, ci sono persone che ci rimettono, e che devono poi compensare, cose di questo genere, fare attenzione a questo tipo di cose, in modo che tutto quanto sia in equilibrio, tutto quanto sia equilibrato, e abbiate la possibilità di vivere la vostra scelta, comunque in ogni caso io vedo che è una bellissima stesa, perché è complicata e intricata la situazione, me ne rendo conto, ma è fattibile, è fattibile, assolutamente sì, 8 di coppe fondo mazzo, dovete allontanarvi da qualcosa, lasciare andare qualcosa, mi arriva anche molto l'energia dei gemelli qua, quindi se c'è qualcuno che sta guardando dei gemelli, e non aveva chiarezza, questa potrebbe essere una risposta, non pretendo che lo sia, ma spero che per alcuni possa essere qualcosa che aiuta, insomma, un aiuto, allora, l'otto di coppe qua mi parla di andare, guardate, questa donna sta letteralmente andando verso il sole, si lascia il fuoco dietro, però questo fuoco fondamentalmente è, questo fuoco, e sono le sue paure, sono, sono sì, sta bruciando, è come un falò, che sta bruciando tutte le cose inutili, che non le servono più, tutte le immondizie, le cose che, immondizia, è brutto da dire, ma le cose che non le servono più, le cose che ormai hanno lasciato il tempo che trovano, le cose che ormai hanno fatto il loro tempo, le cose che le hanno insegnato qualcosa, le relazioni che le hanno insegnato qualcosa, qualunque cosa fosse, la materializzazione 3D, ma lei sta andando verso il sole, e deve lasciarsi necessariamente questo fardello alle spalle, io vedo che una barca qua potrebbe anche essere affondata, quindi magari potrebbe avere avuto una navigazione, non delle più tranquille in questo mare, fino a che non è arrivata alla riva, dopodiché questa barca è semplicemente affondata, perché doveva già affondare, e non escludo che sia arrivata a questa riva, con una barca piena d'acqua, che magari aveva buchi da tutte le parti, ecco mi arrivano queste immagini, quindi secondo me qui è proprio la situazione, la soluzione è lasciare andare, lasciare andare quello che non vi fa, quello che vi fa sentire così soffocati, con questa sensazione di soffocamento, bruciare in un falò, tutto quello che non è più utile a voi, è una purificazione fondamentalmente, fondamentalmente, una grande purificazione, che potrebbe però anche richiedere, mi rendo conto, molta difficoltà, o comunque paura, potrebbe implicare paura, perché magari comporta cambiamenti non indifferenti nella propria situazione di vita, però guardate, questa ragazza va verso il sole, quindi sapete che dopo questo c'è, e quindi questo è il messaggio, allora voglio chiedere ancora, solo un paio di carte agli angeli, dopodiché penso che possa essere abbastanza, allora non ti fermare, infatti, poi abbiamo, acquisisci maggiori informazioni, grandi, felici, cambiamenti, anche amore, quindi se alcuni di voi stanno guardando questa stesa per l'amore, anche in questo caso, qua parla dell'amore a 360 gradi, quindi comunque potrebbe trattarsi di una relazione romantica come non, potrebbe trattarsi anche solo del fatto che inizierete a manifestare amore, per voi stessi, per quello che siete, ripeto, riconnettendovi con la vostra parte più interna, più profonda, potrebbe essere che vi sentiate più amati, perché vi state amando di più, quindi manifestate l'amore, l'amore è quello più alto, quello più alto, quello divino, non ti fermare, acquisisci però anche maggiori informazioni, riguardo a ciò che vuoi intraprendere, e anche acquisisci maggiori informazioni, mi viene da dirvi, riguardo a quelle che potrebbero essere le situazioni che stai attraversando, perché in questo modo puoi far sì che tutti quanti, in qualche modo, escano, non dico soddisfatti, perché magari non sarà semplice, ma che comunque ci sia un minimo di interazione, di comprensione reciproca, ecco, questo è quello che è importante, quindi niente scelte che possono compromettere un equilibrio immediato, anche se alcuni di voi potrebbero sentirsi di fare questo salto, in generale dovete fare un salto, però è complicata questa cosa, è particolare, perché è un salto da fare in maniera molto passionale, dettata dall'impulso, però è un salto che va studiato quasi, cioè bisogna acquisire maggiori informazioni, per fare questo salto in maniera che si possa ottenere sia una gioia per se stessi, che un equilibrio anche per le situazioni che si vanno a lasciare, perché in questo modo anche le persone coinvolte possano comunque avere, possono imparare una lezione magari anche, o comunque possono avere modo di uscirne senza troppo dolore, quindi questo è quello che emerge. Ultimissima carta, abbondanza, quindi sappiate che sta abbondando, sta arrivando l'abbondanza per voi, se avete paura di questo, vi consiglio di soltanto vedere che quelle sono paure, mi rendo conto che, allora le paure, dicevo che avrei visto quelle che sono le paure e quelle che sono le intuizioni, allora avete l'intuizione che in qualche modo se calibrate bene le cose potete arrivare a questo otto di coppe, le paure invece sono quelle che vi bloccano, cioè le paure sono quelle che vi dicono, non rimani nel bozzolo che è più comfort, più confortevole, non fare cose avventate, non andare verso direzioni che ti appassionano perché non ne vale la pena, oppure perché magari, non lo so, ci sono, chissà cosa vi racconta la vostra mente, ecco, per alcuni di voi sarà in un modo, per altri sarà in un altro, sarà differente per ognuno di voi magari, ma in generale quella è la zona di comfort, e il vostro cervello vi sta trovando delle scuse, molto onesta questa lettura, me ne rendo conto, però magari serve così, vi sta trovando delle scuse, vi sta trovando delle motivazioni, anche razionali proprio, ma anche proprio legate alla 3D, per non lasciarvi uscire dalla zona di comfort, ma la vostra sfida è quella di uscire dalla zona di comfort, quindi anche perché guardate, arriva l'amore, e arriva tutto, ok? Fatemi sapere se è risuonato con voi, spero davvero di esservi stata utile, e noi ci vediamo in un prossimo video, spero molto molto presto, buona giornata!